Ti uccidiamo e ti bruciamo il locale se non ci tagli i capelli gratis. Armati di macete, due cittadini del Marocco di 28 e 42 anni hanno fatto irruzione da un barbiere nel capoluogo castellano. I due hanno minacciato l'esercente senza mezzi termini. Già in un'altra occasione la vittima era stata costretta a tagliare i capelli senza essere pagato. Non solo perché i due malviventi, senza fissa dimora con piccoli precedenti penali alle spalle, avevano anche rapinato un magrebino. Lo avevano incontrato alla stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto e lo avevano ferito, sempre con il macete, ad un orecchio per portargli via 10 euro. Tutto questo è accaduto a fine giugno. Immediate le indagini dei carabinieri di Castelfranco che hanno consentito di acquisire elementi utili all'identificazione dei due stranieri. L'altro pomeriggio è scattato il blitz. Accertata l'identità dei due cittadini del Marocco, i militari dell'arma sono andati ad arrestarli. Gli è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dal GIP Trevigiano su richiesta della locale procura della Repubblica. I due sono stati tradotti in carcere con l'accusa di rapina aggravata, minacce e lesioni personali, in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà nei prossimi giorni.